Lasci stare, lasci stare che è fresco di stampa e si rovina il ricettario del GrigioChef. Le 50 ricette del Grigio. E dove si compra? Filicole, librerie, cartolerie oppure comodi comodi www.grigioschef.it. Chi ve lo porta? Lui? Ma il postino? Meglio. Bene. Dai dai, tutti in cucina che cuciniamo le ricette del Grigio. Lei l'ha comprato? Benissimo. Grande effetto.